Riscrivere la città anche attraverso la street art, ormai considerata a pieno titolo una delle più accattivanti forme d'arte contemporanea, capace non solo di riqualificare esteticamente scorci urbani, ma ancora prima trasmettere messaggi sollecitando riflessioni civiche e sociali o anche solo appunto aggiungendo bellezza. Il muralismo affonda le sue radici nel tempo, anche tantissimi anni fa. Oggi secondo me sta vivendo questa nuova giovinezza grazie ai social che permettono di divulgare, di condividere i lavori in tutto il mondo. Su questi temi gli studenti del campus universitario del Pionta si sono potuti confrontare con due notissimi street artists di fama internazionale, Solo e Diamond. Io consiglio di fare quello che amano e di non avere limiti e problemi perché tanto oggi in un'epoca di totale insicurezza a 360 gradi è proprio il momento che magari le cose che uno sente dentro riescano a trovare terreno fertile per poter crescere. Romani attivi in Italia e all'estero, Solo e Diamond lavorano insieme da qualche anno. Il marchio distintivo di Solo sono i supereroi Diamond invece ha un segno stilistico, elegante e provocatorio sulla scia dell'Art Nouveau. Io dipingo utilizzando l'alfabeto universale dei fumetti in modo che quello che voglio comunicare venga capito in tutto il mondo da tutte più o meno le fasce d'età. Nasce da una passione che si è sedimentata negli anni e che poi è rivenuta fuori. Quando ho avuto la possibilità di dipingere cose di grandi dimensioni sui muri ho detto ok questo qui è lo stile in cui mi riconosco di più.